Musica Troppi treni lumaca e pochi convogli nelle fasce orarie di maggiore percorrenza. I pendolari del Levante chiedono la revisione del nuovo oraro ferroviario. Marciapiede sulla Pagana, Rapallo, firmata la convenzione tra Comune e Ordine di Malta. Ora possono incominciare i lavori, i cantieri programmati in maggio. Il Comune di Chiavari prepara un dossier preliminare per il contratto di fiume per l'Entella. In questo modo sarà possibile chiedere i fondi del piano di sviluppo rurale. Diritti e doveri dei pescatori professionisti nell'area portuale di Sestri Levante. Il Comune presenta uno schema di convenzione. Il Papa in Vaticano ha iniziato oggi un nuovo ciclo di catechesi dedicate alla misericordia secondo la prospettiva biblica. Una giornata di Luna Park per i disabili, rinnovata anche quest'anno a Chiavari l'iniziativa che regala emozioni a ragazzi e adulti. Signori all'ascolto buonasera, da Alberto Viazzi che conduce in studio questa edizione della Telegiornale. In regia Giovanni Castello con l'assistenza di Alex Apollaro. L'apertura è dedicata ai trasporti. Il nuovo anno è iniziato all'insegna delle difficoltà per i pendolari, alle prese con il nuovo orario ferroviario che ha soppresso alcuni convogli nella tratta della Levante Ligure. Gli orari e la lentezza di alcuni treni non soddisfano le esigenze di chi quotidianamente usa questo mezzo per spostarsi. Più treni regionali veloci e meno locali lumaca che fanno tutte le fermate. Lo slogan è stato assunto dai pendolari del Tigulio e dell'entroterra che disapprovano le modifiche all'orario dei treni entrati in vigore con il nuovo anno. Al pomeriggio non è possibile che dobbiamo aspettare usciti da scuola un'ora per prendere il treno. Tutto sommato per il resto potrebbe anche andare bene a noi, però sulla tratta pomeridiana abbiamo delle difficoltà. Ho dei problemi con gli orari al pomeriggio quando faccio rientro a scuola perché sono del nautico e mi devo aspettare un'ora per il treno del ritorno. C'è un treno che è a 5 minuti prima dell'uscita che potrebbe essere posticipato di qualche minuto così che tutti gli allunni del nautico lo possano prendere. Purtroppo i treni sono peggiorati sotto tutti i punti di vista, sia come tempo di percorrenza sia come orario. Sarebbe da implementare la tratta per permettere ai pendolari di raggiungere agevolmente il Tiguglio. Quali sono in particolare i cambiamenti che bisognerebbe fare secondo lei? Aumentare la velocità dei treni, principalmente sia degli intercity che dei locali nella tratta da Trabigno, Brigno, Lechiavari e Sestri Levante e poi aumentare la frequenza nelle ore di punta, specificamente dalle 17 alle 19. Del fatto si sta interessando il consigliere regionale Claudio Muzio che in un incontro informale con l'assessore Berrino e alcuni sindaci avrebbe individuato due possibili soluzioni. Il ripristino del treno soppresso che partiva da Savona alle 16.23 a servizio soprattutto dei pendolari in uscita dal lavoro, la prosecuzione sino a Levanto del regionale che oggi ferma alle 14.30 a Sestri Levante, a servizio soprattutto degli studenti in uscita dalle scuole. Permangono perplessità tuttavia per la fascia oraria preserale. Sulla tratta Rappallo-Chiavari o viceversa, circa dalle 7.30 alle 8 di sera è un po' un problema perché devo fare una corsa, perché ce n'è solo una alle 19.37 ma finendo la lezione alle 7.30 è un po' un problema. Mi trovo malissimo, c'erano prima due, sei 18.01 e 18.15, adesso hanno tolto due due, ha messo 18.07 e in mezzo non c'è assolutamente niente, se non intercity, ma fare due abbonamenti sinceramente mi parte lo stipendio, quindi vorrei che ne mettessero a meno due verso le 18.15, 18.20. Siamo adesso alla politica amministrativa, prima Rappallo, poi Chiavari e Sestri Levante. Ci colleghiamo in diretta telefonica con il sindaco di Rappallo Carlo Bagnasco, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a Telepacce, buonasera dottore. Con lei parliamo di una realizzazione importante, quella del marciapiede sulla Pagana, resa possibile dalla convenzione che è stata firmata oggi, siamo all'atto conclusivo, una firma tra il comune di Rappallo e la sovrano ordine di Malta. Perché è importante questa convenzione, sindaco? Ma guardi, ne viene da vent'anni di grane, vent'anni di problemi, vent'anni di cause. In un anno nella mia amministrazione abbiamo lavorato pancia a terra su questo obiettivo, ci sono arrivato grazie ai nostri uffici, grazie anche ai miei colleghi che mi hanno dato una grossissima mano. Che cosa prevede appunto l'accordo con l'Ordine di Malta? Ma assolutamente prevede la possibilità di realizzare questo marciapiede che ha una valenza particolare, importantissima per il nostro territorio, del collegamento Rappallo-Portofino in sicurezza. Quindi è una doppia valenza, sia dal punto di vista di sicurezza che dal punto di vista appunto anche a livello turistico, il grosso richiamo che avremo per fare naturalmente per accedere da Rappallo a Portofino. Il marciapiede da costruire chiaramente è importante, ma quali dimensioni avrà, cioè quale sarà la lunghezza? Sarà un marciapiede a sbalzo interno sulla pagana dove dovremo entrare in proprietà dell'Ordine di Malta e in proprietà di un privato dove abbiamo fatto anche lì un accordo che era già stato firmato un paio di mesi fa. Siamo riusciti ad arrivare a una parte corbanistica estremamente complessa, non facile, siamo arrivati all'obiettivo perché c'è una grossissima prevalenza di utilizzo pubblico, quindi siamo estremamente soddisfatti di una pratica del cambiamento. Adesso la sfida è riuscire ad aprire il cantiere prima metà di maggio. Ancora una precisazione, questo marciapiede interessa sostanzialmente tutta la frazione di San Michele di Pagana e su quale dei due lati dovrete intervenire? Se lei sale sulla pagana salendo a sinistra dove c'è proprio l'Ordine, dove c'è la villa dell'Ordine di Malta e dove c'è la villa di un privato che verrà abbattuta e passeremo praticamente all'interno del giardino del privato con questo marciapiede a sbalzo interno. È un'opera epocale. Oggi è stata scritta la storia di Rapallo, una pagina della storia di Rapallo. Naturalmente il marciapiede è importante soprattutto per la sicurezza dei pedoni. Lei ha detto che in maggio incominceranno i lavori e quanto tempo prevedete e quale spesa anche? La spesa ci siamo, sarà un intervento intorno ai complessiva, poi ci sono dei contributi, c'è tutto un calcolo da fare, deve essere un intervento intorno ai 400 mila euro. Non è un intervento importantissimo dal punto di vista economico, è un intervento importante dal punto di vista di sicurezza. Era proprio una valenza fortissima. Non ci credeva nessuno, io ci ho creduto dall'inizio e ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda la seconda risposta, sul tempo di cantiere noi pensiamo sei mesi. Quindi per l'estate è tutto a posto? Per l'estate speriamo, speriamo. Comunque anche se i nostri concittadini faranno un po' di coda, la faranno per un qualcosa di importante. Grazie al sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora. Adesso andiamo a Chiavari per parlare del contratto di fiume per l'Entella che interessa tutto il bacino imbrifero del fiume. Il comune di Chiavari si pone come capofila per preparare questo contratto. Oggi è stato annunciato un dossier preliminare che servirà per arrivare al progetto definitivo e in questo modo poter usufruire dei fondi del piano di sviluppo rurale che la Regione Liguria deve distribuire entro il 2020. A tale riguardo sentiamo il sindaco di Chiavari, Roberto Levaggi. I finanziamenti da dove arriverebbero? I finanziamenti potrebbero arrivare attraverso l'istruttoria della Regione Liguria, l'assessorata dell'agricoltura e dell'ambiente dall'Europa perché c'è una misura europea specifica per gli anni 2014-2020 dove vengono privilegiati le associazioni dei comuni, le unioni dei comuni e tutto ciò che è un contratto che avviene in forma sovracomunale con associazioni private. Uno scopo è quello di salvaguardare l'aspetto ambientale ma anche abitativo e quindi a questo riguardo avete in programma di contattare anche i privati? Certo perché il contratto di fiume deve essere visto come un'opportunità, non come un vincolo a qualcosa. Coordina tutta una serie di attività appunto finalizzate ad attingere finanziamenti. Questi finanziamenti permettendo una salvaguardia attiva del territorio perché danno finanziamenti a tutti quegli enti, dai coltivatori diretti alle singole persone fisiche, ai comuni quindi saranno contattati tutte queste figure che hanno a che fare col bacino del fiume per la reggimentazione delle acque e per salvaguardare il territorio. Una volta quando noi eravamo giovani, mi ricordo mio padre o i miei nonni, erano loro che facevano questi lavori perché allora c'era il contadino. Adesso questa figura sta lentamente scomparendo, le campagne si stanno spopolando, si sono già spopolate e anche alcuni dissesti idrogeologici sono dovuti allo spopolamento delle campagne. Il contratto di fiume è un'attività che può essere utile e propedeutica per trovare quei finanziamenti che una volta l'uomo svolgeva volontariamente e che adesso devono anche essere retribuiti. Ora andiamo a Sestri Levante dove il Comune ha ultimato i lavori di risanamento dell'area portuale e adesso ha preparato uno schema di convenzione sottoposto ai pescatori professionisti che prevede diritti e doveri della categoria. Se la convenzione verrà accettata diventerà operativa già dal primo di febbraio. Sentiamo Giorgio Calabrocchi, assessore ai lavori pubblici a Sestri Levante. Vediamo quali sono i principali aspetti che riguarderebbero i pescatori. Allora noi praticamente con i lavori cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un servizio igienico nuovo, delle colonine, abbiamo fatto le bite nuove, abbiamo fatto in un tratto di banchina una pezzarella metallica per agevolare lo sbarco e alcuni lavori di completamento oltre alla collocazione di alcuni massi per la protezione della dinga. Praticamente chiediamo ai pescatori di tenere in ordine la banchina perché ci siamo trovati, specialmente nell'ultimo periodo, che la banchina del porto non era in condizioni decorose. Li abbiamo forniti di questi contenitori dove loro potranno depositare le attrezzature, quindi siamo ottimisti che per il futuro il porto si presenti in ordine. Per il futuro cioè quando? In quanto tempo verranno attivati questi nuovi provvedimenti? Tra l'altro ricordiamo anche che verrà affidato ai pescatori uno locale all'interno del mercato del pesce e poi un tratto di spiaggia a Balin. Sì, infatti, questa convenzione riporta anche questi due punti che ha citato lei. Diciamo l'uso gratuito di un locale all'interno del mercato del pesce e uno spazio di spiaggia nella zona del Balin. I tempi saranno velocissimi, nel senso che le procedure burocratiche comporteranno grossomodo lo spazio di un 20 giorni. Quindi comunque contiamo dal primo di febbraio di dare esecuzione a tutti i contenuti della convenzione che sarà sottoscritta. Ora un aggiornamento di cronaca. Vediamo il sito dell'ANSA per la Liguria. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni a Belsito. Quindi nel dettaglio la Guardia di Finanza di Genova sta sequestrando beni immobili e proprietari conducibili a Francesco Belsito, l'ex tesoriere della Lega Nord. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Genova. Secondo le indagini, Belsito avrebbe sottratto al fisco importi per oltre 7 milioni e mezzo derivanti dall'appropriazione indebita di somme sottratte dalle casse della Lega Nord. In Prefettura a Genova domani è in programma un incontro dei sindacati con la Regione Liguria e la città metropolitana di Genova sulla questione ATP. Sul tavolo manca infatti 1 milione e 400 mila euro per il bilancio 2016 e spunta una proposta della Cisla ai comuni azionisti. A tale riguardo ascoltiamo Andrea Sanguinetti, segretario della Cisla per l'area metropolitana di Genova. Iniziare un altro anno con il timore di un taglio agli stipendi non piace a nessuno. Figuriamoci ai lavoratori di ATP che dopo aver fatto un sospiro di sollievo a fine dicembre, quando l'azienda è stata salvata grazie ai soldi pubblici e a una parte del salario dei dipendenti, ora guardano ad un futuro neppure troppo lontano e già con diverse ombre. Per il 2016 manca 1 milione e 400 mila euro, la fetta della città metropolitana che l'ente oggi dice di non possedere. ATP intende correre ai ripari, tagliando o il servizio o gli stipendi, scelte entrambe osteggiati dai sindacati. Il tema sarà affrontato domani a Genova. La Cisla intanto ha avanzato una proposta ai comuni azionisti di ATP, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Sesti Levante, Lavagna e Chiavari, per superare il problema dei fondi. L'ingresso di AMT pone un problema in più, nel senso che AMT, che è l'azienda di Genova, è un'azienda molto grande che avrà un peso molto forte nella gestione del servizio pubblico qua sul territorio. Per questo che noi, come Cisla, abbiamo proposto e stiamo proponendo ai sindaci della città, dell'area del Levante, che sono azionisti, però per una piccola parte, solo il 2,7% di ATP, di cambiare il credito che hanno nei confronti di ATP, che sono circa 600 mila euro, in azioni. Avendo, diciamo, prendendo possesso di queste azioni, i comuni avrebbero anche un forte peso nel Consiglio di Amministrazione della società e quindi probabilmente potrebbero anche avere un maggior peso nelle scelte politiche sul servizio del trasporto pubblico. Cioè i comuni diventano azionisti dell'azienda di trasporto? Esatto, perché attualmente hanno solo il 2,7%. E quindi avranno anche in più. Ed è chiaro, questo bilancierebbe anche la presenza di AMT nel negozio dell'amministrazione. Le notizie di Cronaca. Un uomo e una donna, entrambi quarantenni, sono stati deferiti dai carabinieri di Sestri Levante per lesioni personali e danneggiamento. Ieri sera, intorno alle ore 21 e 30, all'interno della stazione ferroviaria, l'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito dell'assunzione di alcol aggrediva con calci e pugni per futili motivi un uomo romeno di 48 anni, procurando gli lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni all'ospedale di Lavagna. Mentre la donna danneggiava una vetrata della porta di ingresso della stazione lanciando una pietra. A Santa Margherita Ligure i carabinieri hanno trovato e identificato all'interno di una villa disabitata di proprietà di un pensionato genovese di 87 anni un giovane tedesco di 34 anni e una donna italiana di 55, entrambi con precedenti di polizia, che si erano sistemati nell'abitazione. Pertanto i militari li hanno deferiti in stato di libertà per violazione di domicilio e danneggiamento. Una donna pensionata di Lavagna è stata vittima di una truffa. Uno sconosciuto si è presentato nella sua abitazione quale collaboratore di un avvocato genovese che precedentemente aveva telefonato la signora per segnalare l'arrivo del suo incaricato. Il malintenzionato è riuscito così con artifici e raggiri a farsi consegnare alcuni monili d'oro del valore complessivo di 4.000 euro chiedendoli come corrispettivo del pagamento di una sanzione amministrativa a carico del figlio coinvolto in un incidente stradale trattenuto nella stazione dei carabinieri di Genova Bolzaneto e questa una scusa classica per estorcere denaro. La pensionata ha fatto poi denuncia ai carabinieri di Lavagna. E a Lavagna un uomo di 58 anni ha minacciato, ingiuriato e molestato ripetutamente al telefono una donna di 38 anni residente a Bolzonasca per motivi riconducibili a un pregresso rapporto di lavoro. L'uomo è stato deferito dai carabinieri. E ora i temi di carattere ecclesiale. Il Papa ha tenuto l'udienza generale in Vaticano nell'Aula Paolo VI e ha aperto un ciclo di catechesi sulla misericordia secondo la prospettiva biblica. A termine ha invitato a pregare per le vittime dell'attentato avvenuto ieri a Istanbul e in Turchia. Di saluti finali ha citato anche i sacerdoti della diocesi di Savona Noli e il vescovo Monsignor Vittorio Lupi. Nella Sacra Scrittura la misericordia di Dio emerge in modo costante incominciando già dall'Antico Testamento. Egli stesso rivelandosi a Mosè si autodefinisce il Signore Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. La parola misericordioso ha sottolineato il pontefice nella catechesi evoca un atteggiamento di tenerezza come quello di una madre nei confronti del figlio. Il termine pietoso indica la compassione di Dio per gli uomini. Le caratteristiche di Dio ritornano nel Nuovo Testamento la misericordia e la pietà risaltano nella parabola del figlio prodigo presentata da Gesù. Il padre non si chiude nel risentimento per l'abbandono del figlio minore ma al contrario continua ad aspettarlo e poi gli corre incontro e lo abbraccia e va anche a chiamare il figlio maggiore che è sdegnato e non vuole fare festa. Dio inoltre è lento all'ira cioè capace di sopportare e grande nell'amore e nella fedeltà. La parola amore qui utilizzata indica l'affetto la grazia la bontà non è un amore di telenovela è l'amore che fa il primo passo che non dipende dai meriti umani ma da un'immensa gratuità e la sollicitudine divina che niente può fermare neppure il peccato perché sa andare al di là del peccato vincere il male e perdonarlo. Il giubileo dei ragazzi si svolgerà a Roma dal 23 al 25 aprile. I giovani della nostra diocesi che intendessero partecipare possono iscriversi al pellegrinaggio organizzato con partenza sabato 23 e rientro lunedì 25 aprile. Il costo totale di 130 euro e comprende il kit del pellegrino l'alloggio semplice con la sacquapero in una parrocchia i pasti e il viaggio in pullman a Roma. Le iscrizioni scadranno giovedì 18 febbraio. Questa mattina a Chiavari luna parchisti hanno regalato una mattinata di divertimento a 80 ragazzi e adulti soci dell'Anfas Tiguglio Est e del centro benedetto a Cuarone di Chiavari. Sentiamo allora i commenti da parte degli operatori del Luna Park prima e dei ragazzi disabili poi. Da dove venite? Lodi. A Chiavari vi trovate bene? Sì, sì, sì. Due mesi è bella la stagione e noi non siamo abituati a questa temperatura. Noi più fredda. Questa giornata per i ragazzi disabili come la vivete? Con che spirito l'affrontate? No, siamo contenti diciamo che è un piccolo come si dice un piccolo contributo non è che però siamo contenti dai che si divertono anche loro magari non tutte le giostre perché tante magari sono al buio tante sono alte però quel poco che riusciamo a dare siamo davvero siamo contenti. È sempre un'iniziativa che umanamente riempie il cuore. Certamente infatti tutti gli anni lo facciamo per questo motivo e ho portato anche questi fogli per far vedere che è un po' di anni che lo facciamo questa manifestazione questo è intestrato mia nonna che non c'è più dell'83 e questo mio papà che non c'è più purtroppo neanche lui dell'83 Daniele hai appena fatto questa giostra che emozioni hai provato? Una grossa emozione grossa veramente una grossa emozione venite tutti gli anni? Sì tutti gli anni veniamo e ci divertiamo Claudio ogni anno il Luna Park divertimento assicurato? Sì adesso vediamo un po' cosa facciamo dopo il Bruccomea Quali giostre ti piacciono di più? Le macchine noi siamo veramente disabili ma quando veniamo agli orsi che ci invitano ci danno tanto amore e ci fanno passare la disabilità e noi ringraziamo sempre perché sono delle persone squisite e noi le ringraziamo con tutto il cuore Notizie che riguardano la scuola oggi è arrivata la nuova caldaia per il liceo Davigo di Rapallo secondo le previsioni dei tecnici riferisce il consigliere delegato della città metropolitana di Genova Adolfo Olcese la caldaia potrà entrare in funzione sabato eliminando così i disagi per studenti e insegnanti quindi praticamente le aule saranno riscaldate a partire della prossima settimana inoltre sono stati risolti i problemi di riscaldamento al liceo King di Genova e all'istituto Nautico di Camogli a Sestri Levante l'associazione Civitas Umana per la Fraternità intende anche quest'anno offrire attività di sostegno scolastico agli alunni delle scuole superiori durante il secondo quadrimestre le lezioni gli incontri si terranno nella sede dell'associazione in via 20 settembre 33 le iscrizioni si prendono il giovedì pomeriggio quindi domani dalle ore 15 alle ore 18 nella sede in via 20 settembre oppure telefonando nello stesso orario al numero 377 68 33 630 attualmente sono disponibili insegnanti di lettere matematica inglese e diritto ma si richiede la disponibilità di altri insegnanti ora sfogliamo l'agenda degli appuntamenti con Maurizio Garreffa domani sarà giovedì 14 gennaio continua il ciclo di appuntamenti dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 nei locali di Villa Queirolo Graziella Corsinovi terrà la seconda lezione sul tema il mito dell'arte nei giganti della montagna e proseguono anche gli incontri organizzati dall'associazione italo-britannica Chiavarese alle 17 alla società economica conversazione con Caterina Vercellotti sulla storia del sodalizio è sempre aperta la mostra di fumetti di Silvia Marino a Santa Margherita Ligure disegni e bozzetti sono allestiti al primo piano del palazzo municipale in piazza Mazzini l'esposizione sarà visitabile in orario d'ufficio sino al 24 gennaio e infine ricordiamo che come ogni giovedì sarà aperto al pubblico il museo permanente delle sue regianelline nei locali del conservatorio di Corso Colombo a Chiavari l'orario di visita dalle 17 alle 19 ancora un aggiornamento di cronaca a Campodonico in comune di Chiavari un cacciatore si è ferito con il suo fucile probabilmente il colpo è partito accidentalmente il fatto è avvenuto alle 13.05 in prossimità della chiesa sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari il medico del 118 e i carabinieri l'uomo di 58 anni è stato caricato con il verricello sull'elicottero è trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso ha riportato ferite alla gamba e all'addome ma ora le sue condizioni non destano preoccupazione in chiusura un aggiornamento anche di carattere nazionale che prendiamo dalle pagine di avvenire on-line e si tratta delle unioni civili perché c'è un appello promosso dal centro studi Livatino al quale hanno già aderito 103 giuristi nel quale si chiedono di fissare 4 punti no al regime identico a quello del matrimonio previsto dalla bozza del disegno di legge Cirinna che andrà in discussione al Senato il 28 gennaio no all'adozione del figliastro no all'affido rafforzato e no alla maternità surrogata ripetiamo questi 4 punti fermi richiesti dai giuristi i giornali saranno poi visionati domani nella rubrica il buongiorno di Teleradiopace in onda alle ore 7.30 condotta da Marco Revello per l'informazione ci rivediamo con il TG13 a partire dalle ore 12.45 questa sera le nostre rubriche dopo il telegiornale incominciando da Missione Mondo sarà presentata la storia di un giovane padre missionario Ezechiele Ramin dei Comuniani che è morto nel 1985 in giovane età 38 anni dopo aver dedicato molti anni alla missione in Brasile a tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti